In posizione prona a terra porto la gamba destra sotto il bacino portando il piede destro verso l'anca sinistra. La gamba sinistra rimane distesa a terra indietro. In questa posizione porto l'intero bacino a terra per cercare il massimo stretching del gluteo. Mantengo la posizione per 40-60 secondi quindi ripeto sull'altro lato. Grazie a tutti.